Salve, oggi è una giornata nella quale mettiamo un pochino in triangolazione ciò che abbiamo detto le volte scorse, gli scorsi incontri, gli diamo un'ulteriore profondità, nel senso che non è che cerchiamo di essere profondi, ma cerchiamo di creare una comprensione un pochino più tridimensionale di quel discorso che facevamo le volte precedenti sulle immagini che non sono state realizzate, sull'andare al di là della superficie del visibile, del riconoscibile. Oggi infatti in qualche modo parliamo di fotografie che spostano il leggibile, il visibile, non perché si occupino di qualcosa che non possiamo vedere, ma perché lo guardano in una maniera ai limiti del leggibile, ai limiti del visibile. Quindi mettiamola in questi termini, il primissimo esercizio che ci offrono certe immagini è sulla nostra aspettativa di sollecitazione visiva. Noi ci aspettiamo che arrivi un certo tipo di sollecitazione, che ci si impasti lo sguardo nel dettaglio minuto di questa o quella realtà fotografata, di questa o quella stampa ad altissima qualità, che è anche una delle possibilità, non lo nego e neanche penso che non mi interessi, mi interessa anche quello. Però oggi il nostro tema è un altro e noi a quello risponderemo. Allora il nostro tema oggi appunto è quello della sottigliezza, della quasi illegibilità. La quasi illegibilità è una metafora che molti autori utilizzano per evidentemente indicare che qualcosa ci sfugge, che noi non guardiamo la realtà. E la fotografia... noi non guardiamo la realtà non perché la realtà non sia visibile, quello che noi crediamo sia la realtà è il visibile e a volte noi lo vediamo senza... cioè lo guardiamo ma non vediamo nulla, ma non vediamo nulla di rilevante, non lo tagliamo attraverso categorie critiche, lo trangugiamo come trangugiamo cibo spazzatura. Quindi cosa ci dicono certi autori? Ci dicono la realtà è al di là della tua soglia di percezione, la tua soglia di percezione è troppo grossolana. Tu ti aspetti un alto contrasto, ti aspetti, diciamo così, una realtà in HDR e invece la realtà non è così. O meglio, è così ma non sempre. La realtà di fatto, i nessi causali, le rispondenze nascoste, tutte le risonanze, i rimandi che ci sono, che ci sono in ogni cosa, in ogni gesto, in ogni pensiero fattosi azione, quell'immagine sembrerebbe non portarteli, quindi tu se non li vuoi vedere non li vedi e quindi poi non li cerchi. Invece l'immagine ti dice io mi sposto, mi sposto dal vedibilissimo all'invedibile e pur rimanendo qualcosa che si propone come da vedere e questo ti obbligo a fare uno sforzo, a entrarci da rifiutato. L'immagine ti rifiuta come spettatore per sempre. Non è il momento in cui tu finalmente vedi qualcosa, quello in cui finalmente vedrai tutto. Quindi l'immagine rimane l'iammento di quanto tu, perché le cose ti si diano con chiarezza, debba affrontare il momento in cui ti si danno in maniera totalmente poco chiara. E quindi ecco come queste immagini diventano degli ammaestramenti, nonostante contengano poco, niente, qualcosa, ma pochissimo. E siano soprattutto terribilmente, come devo dire, poco sexy, poco appariscenti, poco... vendono poco, vendono male, poi a parte alcune sono diventate anche proverbiali, per cui ovviamente... La prima cosa da capire è, in questo tipo di immagini, è che noi non abbiamo un concetto molto chiaro di qual è il fondo della scala del leggibile e del visibile. E quindi per esempio vi do una schermata, para, diciamo così, e lì posso affermare che questo è il nero. Posso affermarlo, ma così in certe condizioni potrebbe esserlo. Per esempio se steste guardando questo video in una giornata di pieno sole, che può dire a che punto della scala dei grigi si trovi questa campitura. Ma se io aggiungo questa, poi probabilmente è più chiaro che il nero non era quello, ma è questo. Se poi ci vado direttamente dentro, e con dentro intendo che sprofondo nel nero, il nero che mi permette il mio schermo ovviamente, perché c'è un livello di nero che è ancora ulteriore, senza arrivare a quelli brevettati qualche anno fa, basta intendersi che il nero di un drappo di velluto nero, quindi un drappo che ammazza completamente ogni possibilità di riflesso, somiglia al nero molto più di qualunque schermo, di qualunque tessuto che ha comunque alte luci, avrà sicuramente comunque una forma di riflesso. Quindi quando io ho un nero che uccide ogni possibilità di chiaroscuro, lì ho quel nero è molto convincentemente più nero di questi, diciamo al netto del fatto che sia poi comunque tutto lo stesso nero. È anche la qualità insomma del materiale che fa la sensazione di nero. Bene, se io ho questa oscillazione di percezioni di fronte al fondo scala del nero, diciamo così, è ovvio che io ho la possibilità di scoprire una enorme capacità di attenzione in dettagli che non erano previsti. Qui basterebbe ricordare gli scuri di Rembrandt, piuttosto che di Dan McCullen, insomma tanti autori che hanno lavorato in chiave bassa e nella chiave bassa naturalmente hanno inserito questo mondo e quell'altro. Una sottigliezza di incisione, di dettaglio è straordinaria, che ancora oggi fa scuola. Io però vado proprio a fondo scala. Non vado dentro al nero usato come, diciamo così, base per una rappresentazione di alte luci ben congegnate, ma un nero che quasi, come dire, annega ogni racconto. E parto ovviamente da uno che di questa osservazione sui dettagli dell'intensità di colore ha creato un pezzo del Novecento, che è Casimir Malievich. Pittore russo, qui siamo nel 1915, il quadrato nero su fondo bianco è essenzialmente l'equivalente contemporaneo, a lui contemporaneo, si tratta di un secolo e cinque anni fa, l'equivalente di un'icona. Cioè è un elemento universale, non un santo, ma una geometria. La geometria non l'ha inventata né mio cugino, né mio nonno, né nessuno. La geometria è una cosa che sta scolpita nel nostro... come dire, è nativa del nostro sistema cognitivo e forse è nativa direttamente del sistema che abitiamo. Se è vero come è vero, poi che... che ne so, bombardare una goccia d'acqua in sospensione nel vuoto, quindi senza attrito, con una terza, con un accordo di terza o di quinta, quindi con un intervallo di terza o di quinta, musicale dico, produce la goccia, produce una deformazione nella goccia che ha tre punte nel caso della terza, cinque nel caso della quinta. Quindi evidentemente c'è qualcosa nella realtà che fa parte anche di noi, perché noi siamo parte della realtà, non siamo spettatori non paganti della realtà, siamo parte della realtà. Ci deve essere qualcosa, no? Qui dentro, questo... questa è una vecchia argomentazione neoplatonica che vi risparmio. Sta di fatto che se la geometria è qualcosa di universale, il bianco è altrettanto universale, anche il nero è altrettanto universale, perché sono, rispetto a noi che guardiamo e che abbiamo questa finestra di non cecità, che è quella dei colori, sono i, diciamo, di fondo scala della nostra percezione e il bianco può essere considerato essenzialmente una metafora della luce del sole, quindi nel suo caso, nel caso di Malievic, nella luce divina. E nel caso del... e il nero, voglio dire, invece diventa l'insieme di tutti i colori per la sintesi sottrattiva. Tutto questo perché ci interessa? Perché effettivamente Malievic è il primo a dirci lascia stare le storielline. Scendi dentro al dettaglio di questo quadrato e cerca di usarlo come una specie di fonte di meditazione, cioè è lì davanti a te. Ti si propone in quanto tale, senza vesti, senza simulazioni, non è lì perché è lui, è quella cosa lì, è quell'intensità cromatica o non cromatica in quel caso lì. Poi magari usa anche il rosso, il giallo, il verde, i blu, colori semplici, primari, spesso. Entra dentro questa sensazione di colore, sappi che quella cosa non è un nulla, è un qualcosa. E questo qualcosa che è così importante ad essere definitivo, tu non lo vedresti neanche. Sapete quante volte a lezione, quando facevo storia dell'arte contemporanea, ho sentito dire, ma che è sta cosa? Ma che è questa cosa? Qualcuno si alzò un giorno e mi disse, no, adesso lei me la rispiega, perché io devo capire per quale motivo devo stare attento a queste immagini. Proveremo nei prossimi minuti a insistere su questo anche attraverso la fotografia. Nel 1962, un artista inclassificabile come Ad Reinhardt, espressionista, neanche espressionista, potremmo dire un esponente dell'astrattismo neogeometrico degli anni Sessanta, quindi probabilmente più un minimalista, se vogliamo. Potrebbe essere vicino a determinate cose che, per esempio, allo stesso tempo si facevano a cavallo fra la concettuale, tipo i parallelepipedi di Donald Jodd. Però, insomma, nel suo caso, davvero, il discorso è estremamente pittorico. Ad Reinhardt, in pratica seppelliva delle composizioni cromatiche, di variazioni cromatiche, che potevano venire da Josef Albers, per dire come tradizione, le seppelliva sotto degli strati di scuro, di scurità, che non erano, non azzeravano tutto, ma lo rendevano molto lontano dall'essere immediatamente percepibile. Un quadro di Reinhardt va, per così dire, corteggiato a lungo, prima che ti ceda qualche indizio sulla sua composizione. Perché non la facciamo finita con la pittura, dirà qualcuno, visto che stiamo facendo un discorso di ambito fotografico? È presto fatto. Ecco, Hiroshi Sugimoto e i suoi seascapes. Ovviamente cosa ho preso? Ho preso quelli notturni, ho preso quelli di scarsissima leggibilità. Chiunque potrebbe dire che a questo livello di incisione il negativo potrebbe anche considerarsi non uscito bene. Se non fosse che sono tutti perfetti, non c'è nessun seascape di Sugimoto che abbia minimamente un problema. Hanno gradazioni estremamente raffinate, estremamente variate, si basano sulla su questa infinitesima leggibilità, hanno un'ampia gamma di scuri. Questo era il Mar Baltico a Rügen nel 96 e quest'altro è il Mar Rosso a Safaga nel 92. L'accumulo di Mari non ci ammette a un discorso narrativo, non ci dice questo è l'itinerario da qui a là, non ci dice guarda che bella Rügen piuttosto guarda che brutta Safaga o viceversa. e non ci dice neanche queste sono le condizioni tipiche del Mar Baltico e guarda la differenza col Mar Rosso. Nulla. C'è una praticamente una omologazione di motivo, di soggetto e di motivo proprio nel senso decorativo del termine. L'orizzonte è lì è messo, l'acqua è scelta quando più o meno si somiglia cambiano le luci e questo non veder più nulla o veder ben poco è una caratteristica piuttosto interessante che è abbastanza tipica della della cultura orientale. Nella tradizione insomma nella tradizione che dicevamo anche le volte scorse la tradizione zen di cui possiamo raccontare qualcosa non certo testimoniare in prima persona c'è un'idea di vuoto che collima con un pieno il vuoto della tradizione taoista proprio l'idea stessa del tao e poi quindi la tradizione cinese e poi approdata al buddismo zen attraverso questa linea diciamo così che dall'India arriva sempre fino al Giappone tutto sommato ha molta dimestichezza con questo esserci senza mostrarsi che non è dell'uomo invisibile non so come devo dire noi abbiamo quest'idea un po' personaggi degli dei greci che ci sono ma non si vedono tutti l'uomo invisibile il luminoso quindi il pieno di il pieno di il divino chiamiamola così è luminoso o a sua volta privo di luce indipendentemente dalle sue qualità è privo di leggibilità e questo lo rende perfettamente coerente con tutte le esperienze del del mistico qualunque esse siano ora è naturale quindi in un autore come Sugimoto o anche in un altro autore più giovane molto più giovane un Haruna Kawanabe che nella nella sua serie Dog Eye che evidentemente tutto è tranne che fotochimica si ha la sensazione molto netta di una bassissima restituzione comunque digitale però comunque in ogni caso in questa sua serie Dog Eye di cui vediamo due immagini con due soggetti in questo caso riconoscibili un addirittura se volete perfino una citazione Kawanabe in questo senso ci propone anche lui una palestra per la mente perché diversamente da Sugimoto ha un atteggiamento se vogliamo più street cioè è una foto al volo è perfino la prima insomma una specie di manco tanto travestita citazione e questo non permetterci di entrare dentro al dettaglio degli eventi è un bel giochetto è una bella sfida tant'è che effettivamente il lo stesso tipo di diciamo così vaghezza che c'è offerta da Sugimoto da Kawanabe noi la ritroviamo in altri autori io qua non farò mai nella vita una top ten o un riassunto di tutti quelli che hanno fatto qualcosa ho preso delle degli autori alcuni sicuramente a voi ne verranno in mente mazzetti da dieci di altri ma io mi sono ricordato ed imbattuto diciamo così in alcuni e di quelli ho fatto un mazzolino come a offrirvi dei fiorellini di campo a voi Skavander Molen è un'altra autrice che ha lavorato moltissimo su un'immagine che si distanzia dalla leggibilità questa dalla serie Sequestr del 2012 le sue immagini hanno un titolo assolutamente sono titolate solo le serie le foto sono titolate con dei numeri questa è la 212 7 e quest'altra dalla serie blanco del 2015 è la 422 7 fate voi quindi il titolo non ti ammette ha una leggibilità topografica il titolo della serie ti fa capire che comunque il discorso è di carattere metaforico e soprattutto il linguaggio automaticamente ti espelle dalla contemplazione che a volte il paesaggio soprattutto se restituito con questa metodologia con queste macchine di grande formato con questa cura dei dettagli tendenzialmente sollecitano cioè il piacere della restituzione fotografica che è un po' della grande tradizione paesaggistica classica se volete ecco questo è l'anticlassico proprio non non sposa nessuna delle seduzioni della tradizione californiana neanche neanche nelle sue diciamo così variazioni diciamo più recenti o neanche diciamo così questa emozione non non retorica alla Robert Adams nessuna di queste nessunissima di queste la Van der Mollen ha un rapporto quasi di fuga nella 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 natura una fuga senza essere inseguita della serie quello è il mio rifugio e non vorrei non vorrei visitatori e questa siccome la sua la sua fotografia è così io potrei dire che Sugimoto non ha fatto solo questo posso dire che tutti quelli che noi nomineremo tranne un paio ancora hanno fatto anche altro e la Van der Mollen insomma è quasi quasi costantemente alle prese con questa sorta di di respingimento della della seduzione visiva quasi costantemente e sospendere il racconto sospendere ma non come dire allontanare la linea del racconto la linea della coerenza narrativa senza smettere di narrare senza invadere il silenzio totale è una cosa che è difficile perché ci vuole disciplina perché ci vuole autocontrollo e ci vuole soprattutto una riduzione del problema come potremmo chiamarlo della vanitas perché ammazza che bella foto che ho fatto ecco quella è una frase che a chi si tiene a questa distanza dal racconto a questa distanza dalla seduzione dell'immagine non deve venire naturale non deve venire neanche non deve essere neanche quello il movente del suo fotografare trattenersi è un'operazione estremamente complicata e guardare in un giovane autore italiano che lui collegato con alcune pratiche della fotografia reportagistica o documentaria di stile documentario di taglio diaristico ma a volte anche di racconto per mostrare come stanno le cose Fabio Moscatelli il recentissimo forse anche inedito per ora progetto The Long Road una delle foto di questo progetto che per il resto ripeto anche in questo caso per il resto prevede foto leggibili in una sola foto in una sola immagine il progetto del 2020 è in corso titolo The Mother presenta un fotogramma alle soglie del nero alle soglie del nero assoluto forse per garantire una maggiore comprensibilità del 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 frame io posso aver alzato un filino qualcosa nel dettaglio del file ma io quando l'ho vista ho detto ok questa adesso la carico adesso si carica tra un attimo si carica poi ho visto che rimaneva così e ho detto beh no aspetta sono andato a ingrandire per la prima volta l'ho vista su un cellulare e dentro c'era il dettaglio del volto della madre del soggetto di questo soggetto portante di questa serie che è la figlia di Fabio Moscatelli ed è un soggetto che tendenzialmente è sempre altrove rispetto allo sguardo della macchina fotografica stavolta essendo al centro ha trovato Fabio un'altra maniera per essendo lei solitamente altrove ed avendo dovuto metterla al centro stavolta ha trovato un'altra maniera per diciamo così per garantirle una riservatezza una per dar ragione alla sua essere schiva e con questa foto siamo arrivati anche a un'altra a un altro soggetto cioè siamo partiti dall'astrazione siamo andati verso un paesaggio vissuto in maniera totalmente straniata astraente e siamo arrivati al ritratto siamo arrivati al massimo della nostra ricerca di noi nell'altro nel nostro rapporto specchiante con la fotografia che facciamo di questo il ritratto lo vedete in questo lavoro di Sylvie Meunier un lavoro editoriale questo che ovviamente ha avuto anche una forma espositiva è uscito nel 2014 è una serie è un il libro devo dire che è veramente affascinante perché la serie si chiama Avant que tu ne disparesse prima che tu che tu sparisca però il libro è come capita ormai in una certa tradizione molto recente basata sulla cosiddetta found photography cioè su una fotografia che l'autore non realizza ma tratta quindi sceglie trova sceglie sistema tematizza allestisce modifica e così via abbiamo già detto varie volte non c'è bisogno di insistere su padri nonni e zii di questa tendenza beh la Meunier fa qualcosa di molto estremo ovvero invece di portarci a studiare i dettagli di questa macchina del tempo che è la fotografia e quindi questo suo riportarci il passato i dettagli del passato i dettagli della di una storia che non c'è che non c'è più e che ci è sfuggita ci porta a perderli ulteriormente sono persone morte sicuramente ma sta morendo anche la loro immagine e lei ce la mette in scena ulteriormente in questa in questa sua caduta verso l'oblio riportandole verso praticamente l'illegibilità e addirittura nel libro ci sono pagine con la foto che ormai è stata quasi ringlobata dentro a una sottesposizione artificiale e pagine nere ma anche pagine bianche ecco dove passiamo all'estremo opposto ma dove il fondo scala sugli scuri e il fondo scala sui chiari non ci in questo caso almeno non ci consolano l'uno o l'altro sono entrambe delle perdite perdite di dettaglio perdite di identità perdite a volte anche dello stesso mezzo fotografico sul quale sono fissate per come dire ultima capsula del tempo le nostre fisionomie i nostri il nostro esserci stato prego di nome ma comunque ancora in qualche modo figura questa questa idea che attraverso l'accrescersi della luce si vada poi sperdendo il dettaglio la definizione Leonardo direbbe la notizia Leonardo da Vinci diceva la notizia quindi il fatto che fa figura rispetto a un fondale è condiviso da molti in questo caso una giornata artista come Stephanie Schneider utilizza più spesso un sistema come quello della Polaroid o del materiale Instant per che tra l'altro più di recente sembra aver fatto addirittura diciamo perno commerciale sull'idea che la foto può uscire praticamente illegibile nella sua più recente diciamo così forma popolare il materiale Instant soprattutto quello Polaroid chiamiamolo così o Impossible che dir si voglia ha giocato moltissimo su questa illegibilità illegibilità sulla quale tutto il mondo l'uomo già Olga e tutto il resto aveva già fatto abbastanza perno quest'idea del sapore artificiale di perdita della memoria in un periodo dove fondamentalmente le memorie non si riesce proprio a perdere al limite ti giochi in un giorno l'hard disk però è molto strano perché poi prima fai tutte le cose sul simulando questa perdita della memoria questa vaghezza dell'incisione del ricordo poi se ti si brucia l'hard disk invece di dire questo era l'effetto che volevo cominci a pregare tutti i santi e a cercare i tecnici che ti risuscitano l'hard disk e vabbè può succedere non è la coerenza il problema che ci attanaglia in questo momento non certo a livello artistico la prima delle due foto che abbiamo visto era Olant Stranger Than Paradise la seconda la prima era nel 2006 la seconda era nel 2017 si chiama The Princess Brother e capiamo che in questa direzione l'illegibilità ha invece una ricerca narrativa stretta cioè non si dice ah beh porca miseria qua non sappiamo più niente di niente sappiamo tutto di tutto tutto quello che non è visibile deve essere surrogato dalla parola e deve essere riattualizzato dalla mente che evidentemente a quel punto con la parola deve farsi forza per andare dentro a quelle mancanze e lì arriviamo invece al re a chi ha veramente dato a questa come prima abbiamo visto il grande maestro Sugimoto dobbiamo vedere il maestro Paul Graham perché proprio nel non vedere o nel quasi non vedere nonostante sia una serie che intercala il non vedere al vedere la serie American Night del 98 2002 però propone alcuni alcuni scatti molto chiaramente cioè se noi li vedessimo non con questa chiave assolutamente drogata diciamo così verso l'alta luce noi avremmo delle foto di stile americano assolutamente di di tradizione voglio dire è il non vedere che ci porta come dire il tarlo del cosa stiamo trascurando non è il non vedere evocativo narrativo della Schneider che abbiamo visto adesso non è il non vedere più della foto che già è andata ma di una foto nuova è un non vedere più quasi abbagliati da una luce e non vedere un dettaglio sociale che in realtà ha una sua pertinenza fortissima e quindi evidentemente deve essere riportato al centro della nostra consapevolezza a questo punto proprio per il problema della consapevolezza dal lavoro di Graham che è un lavoro cardine è anche molto noto per cui non è che stiamo qua a fare a scoprire l'acqua calda un altro autore molto noto secondo me è che merita anche una certa attenzione in questo caso anche anche lui ha un mandi rivieni tra l'ampiamente vedibile non leggibile è Joachim Ennerot e la serie Whisper in Void è una serie particolarmente ai limiti del leggibile Tracing the Traceless sono queste il numero uno e il numero due con questo titolo sono le due immagini che vi propongo e che effettivamente non fanno come Graham una specie di forzatura sull'incisione di una scena ordinaria ma si spostano in un contesto nel quale la leggibilità di partenza è estremamente complicata estremamente difficile e la leggibilità dei fatti però questo non significa che il paesaggio non ci sia questo non significa che il paesaggio non abbia un'atmosfera che il paesaggio non possa come dire esserci dentro mentre noi siamo lì a guardare l'illeggibile e questo ci richiama il nostro primo video è il paesaggio gli ultimi paesaggi di Ghirri Ennerot è un un autore estremamente interessante e addirittura se ve lo andate a vedere deve essere difficile seguirlo se uno non ha molto interesse nel genere un suo workshop si basa essenzialmente su una seduta di meditazione può non essere al di là di quello nient'altro perché vuol dire secondo me è decisivo per chi faccia fotografia però ne potremo anche riparlare in questo senso però effettivamente pensi vai a parlare con un autore fotografico un artista fai installazioni ologrammi cose molto complesse anche strutturalmente poi ti ritrovi lì a sentire se la tua mano sinistra è più calda della destra e quindi ecco cominci a pensare che qualcosa non vada non c'è nulla che non va sei tu che leggi male il bianco sei tu che leggi male il nero sei tu che leggi male forse anche i livelli di grigio non perché fotograficamente non li gestisci ma simbolicamente ti sono sfuggiti ora prima di chiudere voglio riportare alla mente di tutti dei lavori straordinari di Luisa Lambri la nostra grande artista che adesso vive a Los Angeles e che nel 2012 realizza questo senza titolo che è sottotitolato Marfa Project e lei è sempre site specific cioè fa il lavoro di dove è e quindi dove sta fa questo lavoro è solitamente un lavoro che si basa sulle architetture e solitamente su architetture di di sapore modernista minimalista e traduce tutto questo in qualcosa di ancora più minimalista ancora più diciamo così rare fatto trasformando grazie alla luce che lei fotografa può impiegare addirittura fino al punto di smaterializzare le masse architettoniche arrivando appunto a smaterializzare l'intero costruito l'edificato ci ricorda ancora il Sugimoto di Architectures che effettivamente cercava un po' una maniera per smaterializzare il risalire al sogno dell'architettura modernista ma la Lambry ecco anche con la Stan Frank House altro senza titolo del 2007 ci mostra che effettivamente il luogo può essere anche quasi in positivo dal punto di vista della forza del disegno della propositività del design del progetto di modernità che incorpora ma tutto questo deve diventare o diventa atmosfera sentimento guardate che sto usando il termine sentimento proprio per qualcosa di assolutamente animativo apparentemente cioè non un qualcosa che vedi i fiori vedi gli uccellini o una gamma tonale che potremmo definire primaverile piuttosto che autunnale qui usiamo il sentimento per intendere un sentire qualcosa al di là della stretta e nuda geometria delle cose che sia una geometria geometrica o sia una geometria concettuale ed è per questo che poi finiamo al quadrato bianco sul fondo bianco di Malievic del 1918 perché perché è lì che va a finire tutto e da lì cominciava il nostro diciamo processo di scavo nel quasi illegibile e noi siamo di nuovo nel quasi illegibile ci ritroviamo di fronte di nuovo Malievic vedete che abbiamo una serie di pezzettini che già negli altri video ci avevano un po' l'avevamo visto per un altro motivo ok questo per dire che alcune cose alcuni alcuni autori alcune opere alcuni moventi della storia a volte sono figura a volte sono sfondo a volte sono protagonista a volte sono coro a volte sono addirittura spettatore e noi e noi non siamo spettatori a guardare una scena noi tessiamo queste queste presenze che cominciano a trarre senso quando ne hanno per noi e quindi ecco Malievic più contemplativo di tutti quello che ti dice è una vibrazione del una vibrazione non come quella di Jeff Gambardella no signorina per piacere cosa sono le vibrazioni no è una vibrazione diversa di un fondoscala di tutta luce sono due qualità diverse di luce che si intersecano e fanno figura diventano una figura diventano addirittura un angolo da leggere perché non è un quadrato su come quello nero un quadrato su un quadrato che è della stessa dimensione appena più grande ma che fa centro esattamente dove fa centro il quadrato nero no qui no il quadrato bianco si sposta a un dinamismo questo niente su fondo niente è pieno di qualcosa ma come nella foto di Enerald c'è un qualcosa di cui è piena la foto no non è quella piccola figura umana quella piccola figura umana serve come serviva ai grandi paesaggisti secenteschi settecenteschi neanche tanto ma proprio per forse addirittura quelli romantici tipo Friedrich per parametrare per dire vedi l'uomo vedi l'uomo vedi poteva non esserci effettivamente questo mi ricorda molto un video che ho visto pochi giorni fa un video di pandemia tipico un canale veneziano nel quale nuotava un cavalluccio marino l'uomo poteva non esserci probabilmente se non ci fosse stato non avremmo visto Venezia col cavalluccio marino il cavalluccio marino sarebbe stato spasso per il mare e non avrebbe fatto figura quindi di nuovo il costrutto serve se fosse solo natura non farebbe figura serve contemporaneamente tutto e niente è il motivo per cui è così interessante il rapporto con la natura nell'antica pittura cinese perché tendenzialmente ti mostra il tutto proprio il tutto nel senso dell'universo nel dettaglio che è quasi sparito e questo ce lo dice lunga però io mi rendo conto che è molto poco affascinante questo discorso sui quasi niente che è faticoso e allora ho portato così per indennizzo una bella foto piena di dettagli e di colori una bella foto di Robert Polidori piena di dettagli è l'Hotel Petra in Beirut è il 2010 questa foto di grande formato è un dettaglio che lui ha colto di un muro ovviamente Polidori è specializzato nella distruzione dell'architettura nel venir meno del costrutto architettonico partendo dagli uragani dalle guerre da qualunque sia stato il tempo anche semplicemente e quindi ho portato comunque qualcosa che stesse recedendo dall'essere se stessa però un'immagine che almeno indennizzasse di mezz'ora di quasi nulla e con questo vi saluto e vi ringrazio spero di vedervi ok ci vediamo presto grazie a tutti Grazie a tutti